«Educhiamo al rispetto» è l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Torre del Greco nell'ambito delle politiche alle pari opportunità affidate alla consigliera Yolanda Mennella, svoltasi questa mattina nell'aula consigliare di Palazzo Baronale alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza di genere. Un parterre è affolto ed articolato quello dei relatori intervenuti, composto da psicologi, tecnici del diritto e da rappresentanti delle forze dell'ordine, che ha saputo offrire agli studenti un'analisi attenta e puntuale del fenomeno sociale, in quest'anno nettamente in aumento nelle statistiche nazionali, così come chiarito ai nostri microfoni. Ci sono 579 casi di violenza sulle donne solo a Napoli, sappiamo dei 155 omicidi, Purtroppo anche uno della nostra concittadina, Palo di Marrocco, Titti Marrocco, purtroppo soprattutto in quest'ultimo mese. Credo che questa sia una delle iniziative più importanti che un'amministrazione, un'istituzione soprattutto debba dare ai ragazzi. Purtroppo sono notizie che è oramai che si ripetono consuetudialmente tutti i giorni. Io credo che bisogna dare veramente un'inversione di tendenza e a partire soprattutto dai ragazzi. Qual è la fotografia della città di Torre del Greco sotto il profilo della violenza di genere? Lei da espressione istituzionale della sicurezza del territorio che cosa rileva? Qual è il grado di educazione della nostra collettività? Fortunatamente abbiamo uno spaccato sociale che non è drammatico al punto di altre realtà, però bisogna sempre incentivare, continuare con l'educazione, con la formazione nelle scuole, i supporti territoriali devono essere vicini ai ragazzi. Registriamo comunque un fenomeno sicuramente non in crescita ma abbastanza contenuto, ma in ogni caso ci siamo sul territorio e riceviamo anche la collaborazione della cittadinanza. Un percorso iniziato oggi è finalizzato a coinvolgere nei prossimi mesi l'intera comunità scolastica locale attraverso incontri di educazione e di formazione alle delicate quanto mai attuali tematiche del conflitto di genere, amplificate oltretutto nelle ultime ore dalla terribile straziante vicenda che ha visto protagonista la giovane Giulia Cecchettini. Abbiamo il Pantaleo, il Degni e la scuola secondaria di primo grado di Nicola Sasso e con la Marino Mazzo. Questo è l'inizio di un progetto che avverrà ogni mese. Stamattina lo facciamo con questi quattro istituti, il mese prossimo accoglieremo gli altri istituti e quindi cercheremo sempre di parlare di questa tematica così critica che purtroppo invade il nostro territorio ed è presente in tutte le nostre culture. Finita questa fase oggi in aula, poi saremo noi istituzione col sindaco andare nelle scuole e quindi essere noi presenti nei loro istituti. Fondamentale in questo rapporto di costruzione del dialogo e della cultura del rispetto di genere il ruolo dell'istituzione scolastica e della società civile attraverso associazioni di settore. Questa giornata per noi è un'occasione diciamo per non per concludere ma per dare inizio a un percorso importante. Si parla di educazione alle sentimenti. Nella scuola lo facciamo tutti i giorni. Le vive quotidianamente con i giovani. Che cosa crede sia cambiato oggi nell'equilibrio relazionale tra l'identità maschile e quella femminile? Io penso che i nostri ragazzi oggi non siano più abituati ad aspettare. Anche l'amore vuole l'attesa. Consumare il sentimento nell'immediato, l'incapacità di affrontare e di gestire la noia perché i rapporti sentimentali sono fatti anche di noia e allora qui subentra l'educazione delle famiglie. Diciamo qualche no ai ragazzi e insegniamo loro a non sentirsi frustrati perché i no aiutano a crescere. Noi dell'associazione Solo Donne Rosanna sono circa 20 anni sul territorio che ci combattiamo e gridiamo forte. Abbiamo trattato molti casi, proprio ultimamente due casi molto forti. Vogliamo gridare forte, basta violenza sulle donne.